Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare la nuova opera di quei folli ma allo stesso tempo geniali della Serpentarium e si torna a parlare di un'ambientazione prettamente fantasy, old school, come hanno già fatto nell'ultima torcia in questa loro nuova opera, abbastanza ridotta come dimensioni ma veramente spettacolare, il cui nome è Dungeon Crawlers e penso che già dal nome si spieghi di cosa andrà a trattare. Un gioco veramente unico, un gioco assolutamente old school per tutti gli amanti di D&D prima edizione ma proprio e soprattutto per gli amanti del genere videoludico con cui magari siamo cresciuti noi a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90 come ad esempio videogiochi bellissimi alla Dungeon Master o tutta la saga di Eye of the Beholder che io l'adoro e veramente è uno spettacolo disumano. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Partendo un po' dalla storia dei Dungeon Crawler, come detto poc'anzi prima della sigla, una saga che se non erano fatto tre titoli come quella di Eye of the Beholder è stata molto importante perché ha dato il via non soltanto a un tipo di gioco fantasy molto bello e divertente ma anche al GDR trasportato da tavolo al computer e soprattutto ha dato il via a un genere di gioco perché vi lascio ricordare, come sicuramente qualcuno di voi magari avrà già visto anche per uscite un po' più recenti su Steam come Grimrock, se non erro, che comunque si va a rifare un po' quello che era Eye of the Beholder la cosa bella è che lanciarono un genere da cui poi è nato il genere, quello moderno anche di GDR a livello videoludico perché basti pensare che il primo titolo della saga di Elder Scrolls, che vi ricordate era Daggerfall era praticamente un Eye of the Beholder solo open world quindi comunque le meccaniche di base erano quelle mettere un gruppo composto da quattro eroi che categoricamente erano guerriero, chierico, ladro e mago e mandarli all'interno di un dungeon diviso in vari sottolivelli un po' come poi ha ripreso anche l'idea, la stessa Blizzard con il primo diablo ed andare poi alla fine a fare missioni, campagne, spendere soldi, arraffare il tesoro e sconfiggere il boss finale insomma, classica avventura alla D&D, appunto prima edizione di stampo molto molto old school qui presente Dungeon Crawlers è un gioco dove dovrete andare voi stessi a disegnare il dungeon infatti non a caso ho messo qui davanti un foglio A4 a quadretti un lapis e ovviamente i dadi classici di tutti quanti i giochi di roll il di 20, il di 12, il di 6, il di 4 quindi comunque nella sacchettina qui degli spiriti citazione da grosso guai a Chinatown ci sono tutti quanti i dadi che poi servono per giocare a Dungeon Crawler e il regolamento del gioco è molto semplice noi all'inizio andremo a comporre un party di 4 personaggi e questo, piccola parentesi, è un gioco che si gioca secondo me al meglio in solo però lo potete giocare anche in cooperativa anzi, è più divertente perché questo gioco ha anche la modalità sia cooperativa che la modalità GDR alla fin fine cioè ci potete creare anche una storia e fare un po' di interpretazione e poi qua giù all'interno c'è anche una specie di mini libro game vabbè è tutto praticamente, è uno spettacolo assurdo vi dovete fare 4 personaggi che saranno sempre un guerriero non si possono mettere due volte la stessa classe quindi due guerrieri no il guerriero, il ladro, il chierico e il mago ciascuno con le sue peculiarità il ladro scontato scassina le trappole e tira bene con l'arco il guerriero picchia corpo a corpo il chierico picchia benino e cura mentre invece il mago è castante lanciano incantesimi e si dovrà anche scegliere la posizione di come mettere l'informazione alla Eye of the Beholder pari pari perché magari il guerriero e il chierico li terremo davanti e magari il ladro che tira meglio e il mago che è castante li terremo dietro quindi quando andremo in un corridoio largo due quadretti a fronteggiare dei mob i mob ci attaccheranno, i mob, i nemici ci attaccheranno sempre sul fronte quindi saranno quelli che avremo messo davanti a reggere l'assalto quindi nel caso, come detto poc'anzi, il chierico e il guerriero mentre invece nello stesso turno magari il ladro da dietro tirerà e il mago lancerà gli incantesimi in questo gioco il regolamento è molto semplice perché noi abbiamo delle tabelle e quando andiamo ad esplorare abbiamo un punto di partenza sulla mappa che ora poi vi farò vedere nel corso del video abbiamo un punto di partenza sulla mappa e in questo punto di partenza noi dovremo andare a tirare la stanza perché il gioco è sempre corridoio, stanza corridoio, stanza non ci possono essere 5 corridoi e poi una stanza è sempre corridoio e stanza quindi noi andremo a tirare il dado il dado da 100 di solito per vedere che stanza esce al momento che è uscita una stanza vediamo com'è nel disegno e l'andiamo a disegnare sul foglio ovviamente rispettando i quadretti che sono qui per questo dovete usare gli stessi identici quadretti perché se no rischiate di riempire tutto quanto il foglio velocemente trovata la mappa si va a tirare all'interno per vedere quante uscite e che tipo di uscite ha magari ha una porta chiusa una porta segreta una porta normale un arco insomma potrebbe avere tanti tipi di uscite che a loro volta collegheranno tirando un'altra volta il dado a dei corridoi corridoi che potranno portare a trappole mostri vicoli ciechi o ad altre stanze regolamento del gioco vuole che per finire una missione missione che dovete leggere qui noi dovremo esplorare top stanze quando avremo esplorato esagero ad esempio 10 stanze avremo la possibilità di fare di trovare il boss o comunque di trovare la missione che dobbiamo andare a fronteggiare e completare e una volta completata avremo finito appunto questa missione qui però alcuni dungeon hanno più livelli quindi nel caso vi spostiate da un livello 1 a un livello 2 potrete semplicemente cambiare pagina e disegnare in quella dopo segnando magari da qualche parte il livello del dungeon dove siete e quando i mostri vi andranno a fronteggiare fronteggeranno sempre in un certo modo ad esempio se vi fronteggiano frontalmente l'esempio sarà sempre i primi due davanti poi ai lati poi ai lati e poi due dietro oppure se vi colgono di sorpresa o vi prendono alle spalle attaccheranno prima quelli dietro e poi quelli in cima così magari se subite un agguato verranno colpiti prima magari il ladro e il mago che avete messo nelle retroguardie e potrebbe essere un problema tesori tesori che si potranno aprire o il ladro potrà scassinare su una difficoltà di 10 tirando che ne so il ladro ha non lo so 2 di 20 il ladro va a tirare i suoi 2 di 20 e tiene il maggiore come abbiamo visto ad esempio sull'ultima torcia quindi in questo caso ho fatto col primo 14 e col secondo 2 tengo 14 ho superato la difficoltà di 10 scrigno scassinato mi prendo il tesoro stessa cosa per combattere contro i mostri i mostri hanno di solito un punto ferita a parte i boss che magari ne hanno 3, 4, 5 anche di più o gli elite magari ne hanno 2 o 3 il mostro a grado di sfida boh 8, 10 vado a tirare il mio dado d'attacco a seconda di quantità di O oh stiti rimi venissero quando gioco di ruolo 19 ho colpito il mostro e gli ho fatto una ferita perché a meno di diverse condizioni incantesimo o quant'altro tutti quanti i colpi che vanno a segno fanno una ferita e quindi comunque se il mostro è un mostro normale il mostro è stato ucciso scopo del gioco ovviamente andare ad arraffare il tesoro e scappare tesoro che può essere speso per fare progressione e comprare nuove abilità del personaggio da una lista casuale tirando un d10 e vedendo cosa esce un d6 se non erro o se no potranno essere spese ovviamente in altra maniera per comprare equipaggiamento o quant'altro è molto bellino il gioco perché all'interno tra una missione e l'altra in modalità campagna c'è anche un libro game con dei dialoghi e delle scelte che sarà il gruppo a dover fare dopo essersi consultati al tavolo quindi magari a fine missione si va nella locanda vediamo cosa succede e cerchiamo di fare un po' di domande seguendo ovviamente vuoi fare questa domanda? vai a pagina 12 vuoi chiedere al tizio se essa ha altre informazioni? vai a pagina 50 quindi tra una missione e l'altra in modalità campagna e non single shot c'è anche direttamente una specie di mini libro game ed è bellissima come idea in conclusione questo Dungeon Crawlers è il prodotto secondo me vi ho sempre detto la Serpentarium ma a voi vi mancano due prodotti due perché avete fatto il gioco fantasy il gioco post-apocalittico l'ultima bomba avete fatto il gioco horror l'arba di Cthulhu il gioco fantasy con ad esempio anime sangue avete fatto un altro gioco horror Cine Requie vi manca un Dungeon Crawler oh e mi hanno ascoltato e gli manca lo sci-fi a loro gli manca un'ambientazione sci-fi horror spaziale e poi praticamente è una casa di sviluppo di capolavori per come la vedo io che loro assolutamente a fare i GDR sono i migliori in assoluto perché sanno sempre cosa vuole il pubblico e sanno sempre cioè ogni manuale che esce ti può garbare di più o di meno ma sanno sempre come attirarti con qualcosa di originale e non è facile ragazzi non è facile per niente quindi per tirare le somme questo Dungeon Crawlers è un prodotto che viene 34,95 un piccolo libricino ma veramente corposo e pieno zeppo di roba veramente molto molto interessante non ve lo fate scappare e come sempre lo potete ordinare dal primo link in descrizione in sovraimpressione dalla giocolibreria semola al miglior prezzo sul mercato e usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% ricordatevi ragazzi che se questo prodotto Dungeon Crawlers non c'è in lista oppure c'è ma pallino rosso è finito in tutti i casi mandate una mail a Corrado al proprietario della giocolibreria semola scrivendo al supporto cliccate supporto mandate una mail e fate presente che arrivate dal mio canale dal canale di Coridan questo prodotto ce l'ha ma è finito oppure non ce l'hai fuori catalogo se ovviamente è reperibile non un gioco di 10, 15, 20 anni fa farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato usate il codice discount Coridan7 e per spese superiore 79 euro ovviamente il corriere è gratuito in tutta Europa quindi anche fuori dall'Italia e isole comprese gioco libreria semola come sempre si attesta uno dei servizi migliori che potete trovare sia in sede che anche per acquisti online fatemi sapere cosa ne pensate ringrazio ovviamente Kurt e Moro per avermi offerto questa copia ancora una volta grandissimi serpentarium ve l'ho detto i vostri giochi possono spudoratamente piacere o fare schifo però una cosa è certa sono originali ed è la cosa più bella secondo me il traguardo migliore che potevate raggiungere perché a me ad esempio potrebbe a me non è piaciuto particolarmente anime e sangue però comunque andando a leggere ho visto un prodotto praticamente mai visto da altre parti quindi quello che li va a differenziare è questo se cercate qualcosa di innovativo ed originale comprate i prodotti serpentarium e soprattutto questo dungeon crawlers anche in solo perché a volte me lo chiede ma in solo gira benissimo anzi è pensato al 90% per essere giocati in solo fa proprio il caso vostro ciao ragazzi alla prossima se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato ricevere notifiche non perderti nemmeno un video in uscita primo link in descrizione primi link che trovate ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale facebook al canale mio di live twitch alla mia pagina instagram e alla mia pagina tiktok che sono sempre aggiornate e su twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata mi raccomando iscrivetevi soprattutto social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale youtube lo troverete sempre lì ciao alla prossima